buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video, non posso urlare perché nell'altra camera c'è un'altra persona e non posso assicurarmi che non senta, no? perché non voglio farmi sentire ma perché sono le 7 del mattino e non mi vado a svegliare le persone perché devo fare un video come state? io ho chiuso l'altro video dicendo che avrei iniziato appunto questo che è il giorno della gara e il giorno del warm up adesso è presto, sono le 7, tra 10 minuti e un quarto d'ora dovrei uscire a fare colazione però la faccio, c'è un bar per andare verso il maneggio, mi fermano, ci fermeremo lì e poi andremo là in maneggio che sicuro ci è sporco perché quando ci sono i giorni delle gare è sempre sporco l'ergio lo pulisco un po', aspetto l'orario del mio warm up e poi cosa faccio? dato che la gara ce l'ho alle 3, il warm up alle 8 e mezza direi che torniamo in hotel sistemiamo i cani, cioè vi sto facendo un po' il progetto della giornata sistemiamo i cani e poi torniamo là, cioè mangiamo e poi torniamo là adesso vado a vestirmi, non mi vestirò subito da gara perché sarò le voncio mi vestirò come ieri, tanto li ho usati solo ieri qui c'è Missy, gli altri sono andati a fare la pipì giù e niente, vado a vestirmi ma che si suona alle 7 del mattino raga? ma perché? ma perché? cioè, i cani, dovete stare i cani c'è un brufolo e l'ho schiacciato, è il genio del mare una brioche con un bel succo alla pesca, dovrebbe essere aggioccolato buongiorno mio piccolo G, perché devi sempre mangiare la videocamera? ciao, stai facendo colazione, ciao da saio, dai ti lascio mangiare, vado a preparare tutto ciao 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 ci sono in giro con i miei cagnoni che gli sto facendo fare la pipi, hanno fatto un sacco di pipi ma non fanno la cacchina e adesso a parte che mi sono anche fermata la cop che ho comprato le carote e i finocchi e anche il balsamo perché mi sono dimenticata a casa e adesso salgo e poi ci dirigeremo di nuovo al maneggio che mangeremo e poi ho la gara aiuto dai fate la cacchina fate la cacchina fai siete i tuoi gemellini? eh? tu cosa piangi? eh? perché piangi? Oxen mi sono cambiata ho cambiato alla fine sono i pantaloni e sotto c'ho la camicia e ho una sulla felpa e guardate che cosa c'è la mia fantastica felpa e qui come vedete sto giacca è vero giacca mi sono mi sono confusa perché stavo pensando che sto schiacciando migliaia di crocchette come vedete i miei cani le buttano per terra questa mi sa che è opera di Missy eh? tu che dici che è sorda? la chiamo e si gira non è sorda Missy sto schiacciando le crocchette che tu stai portando in giro e poi con questo pavimento mi confondo non è Missy il tuo cuci l'uomo ma Missy c'ha la bocca più grande da una parte no è sorda perché si inizia bene ma sei la mia chieda? ciao cuci non ci vediamo dopo qui ci vuole il bacino porta fortuna Missy e te non lo damano perché non ti voglio bene ma perché mi mordi ciao vita mia ciao Adesso ci spostiamo in Lombardia per il percorso di riconoscere i sensori di 7G. Grazie per la visione! 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 Qui fuori sto piovendo! Proprio quando devo andare io! Mi mangio sempre! Mi mangio sempre tutta! Sono buona? Sì! Ciao! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Buonanotte, ci vediamo domani. Arrivato. Comunque sono le 11, il mio cavallino è arrivato. Adesso siamo andati perché tanto sono già passate 24 ore per la creta, per cui me la tolgo così domani vengo qui. Non gliela devo togliere, monto subito e poi l'ho toso. Buonanotte, c'è un colpelo non lunghissimo ma brutto e poi sto cercando di fargli andare via queste cose qui, come vedete, come avete visto anche nel video, il video delle gare è tutto spieracchiato. Quindi vediamo cosa riesco a fare. No, il ciupotto è mio. Comunque noi ci vediamo nel prossimo video, noi andiamo a finire di metterci a posto. Speriamo che vi sia piaciuto e vi mandiamo un bacione. Dagli il bacione. Lo darei mai al bacione. Dammi il bacione. Dai, dammi il bacione. Fammi. Dai il bacione. Dai il bacione. Grazie, l'ho prezzo. Grazie, l'ho prezzo.